venerdì 3 febbraio 2012 l'uomo ferrato e collina praticamente alu questa volta è venuta veramente una valanga di neve guardate qui è vicino a casa mia questa strada mi sa che affitto una collina e apro una pista di sci qua mi rende di più che fare il dj entriamo nel paese lì è l'uomo meno 7 alle 9 e un quarto del mattino meno 7 gradi qua la scuola è chiusa la scuola invece di essere caldo a casa sono riuscito a fare il pazzo non è che capitano tutti i giorni questi specialmente questo panorama mai nevicato così e qui in questa zona di solito nevica 30 cm al massimo qua ne ha buttati 90 cm di neve 90 questo davanti a casa mia misurati e poi fuori non lo so mi sa che ce n'è di più il paese scomincia a girare quindi veramente veramente pazzesco stanotte mi sa che ho toccato meno di 10 qua perché c'è meno 7 a quest'ora non riesco a aprire la bocca anche perché sono uscito senza sciarpa senza guanti portavo i miei figli a scuola e pensavo praticamente di tornare a casa poi non ho resistito a questo panorama quindi sono in giro a fare queste riprese praticamente come una macchina ortografica da delettanti in fondo insomma però sai documentare queste cose è molto bello non è di tutti i giorni ecco non è 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 ho il panorama spettacolo non riesco a tenere in mano questa macchina fotografica ho le mani ghiacciate vorrei andare la ma ho paura di infossarmi a questo pino secco di noi Torniamo su Sembra un po' di luna Questa è proprio oggi Un freddo pazzesco Concludo qui questo video E' venerdì 3 febbraio 2012 Alle 9 e mezza del mattino Circa meno 7 gradi L'uomo ferrato naturalmente